Io ho una visione di una città che nonostante tutto è ancora abbastanza forte, nonostante la difficoltà di tutto il paese. Sono convinto che qui esistono ancora delle risorse umane ed economiche che consentirebbero alla città di ripartire. A queste persone bisognerebbe dare soltanto un po' di fiducia. Credo che manchi innanzitutto la fiducia.